giovedì 10 settembre 2020 mi è arrivato un pacchetto dalla dita ladimir brinci questa è la seconda volta che faccio un orte la prima volta l'ho fatto l'anno scorso nel mese di agosto mi è arrivato il 20 agosto adesso dobbiamo aprire tiriamo il pacchetto e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti.